Io non mi occupo di politica, però ho la tessera delle partite radicali da 20 anni e in casa siamo tutti radicali, quindi penso che sia giusto che ci siano dei radicali in Parlamento e penso che sia giusto che ci sia Panella che considera il mio alter ego politico. C'è qualcosa che non va in questo cielo, c'è qualcuno che non sa Più che ore sono, c'è chi dice qua, c'è chi dice là Io non mi muovo, c'è chi dice là, c'è chi dice qua Io non ci sono Tanta gente è convinta che ci sia nella di là, qualche cosa chissà Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà C'è qualcuno che non sa Più che ore sono, più che ore sono, c'è chi dice là C'è qualcuno che non ha C'è chi dice là C'è chi dice là C'è chi dice là C'è chi dice là No C'è chi dice là C'è chi dice là Io non mi muovo Tanta gente convinta che ci sia nella dirà Chissà cosa e chissà Quanta gente comunque ci sarà Che si accorterà Se chi dice no, se chi dice no Io non mi muovo Se chi dice no, se chi dice no Io non ci sono Se chi dice no, se chi dice no Io non ci credo Chegni di senno Chegni di senno Io sono loro Il fascismo l'abbia cacciato via Ora a casa la partitocrazia Il fascismo l'abbia cacciato via Ora a casa la partitocrazia Il fascismo l'abbia cacciato via Ora a casa la partitocrazia